L'emozione non è ancora passata, ma Federica Lazzara, 19 anni, la nuova Miss Sicilia, è già proiettata alle finali nazionali di Jesolo. Una vittoria netta, conquistata nella splendida location di Teatro di Verdura a Palermo, dove Federica ha superato la guerrita concorrenza di altre 47 candidate provenienti dall'intera regione. Ma la giuria, preseduta da Giussi Buscemi, Miss Italia in carica, non ha avuto dubbi. È lei la più bella di Sicilia. Ma ancora sono un po' incredula, ma piano piano sto prendendo coscienza di questo titolo. Può sembrare retorico, ma le emozioni che ho provato ieri sera durante la proclamazione sono state veramente intense, talmente intense da scoppiare in un pianto di gioia. Per Federica Lazzara, che in passato ha vinto altri concorsi di bellezza, la passerella di Miss Italia sarà un'esperienza di crescita, ma senza dimenticare lo studio e le ambizioni professionali. È stato proprio ieri che ho svolto i quiz alla facoltà di medicina e subito dopo mi sono catapultata a Palermo per la grande finalissima. Adesso attendiamo i risultati, anche se già so di essere in classifica, in graduatoia per le professioni sanitarie, quindi un piccolo traguardo già è stato raggiunto anche in quest. Sotto con l'avventura di Iesola adesso, sostenuta dall'intera Capodorlando e da affrontare con un sorriso. L'invitazione di Belen, ma sì, io sono Belen e spero di vincere la Miss Italia, tutto qui.